rieccomi con voi ragazzi codice sempre di confini varcati e oggi vi porto l'apertura di 6 pacchetti di stirpe dei draghi questa è una delle poche espansioni che non riesco a completare codice Durant, Maractus, Roserade, Deino, Timepon, Biduf, Markroff, Golett, Garbodor Reverse e Shedinja raro No, ragazzi, guardate qua c'è due codici io non so questi pacchetti come hanno fatti adesso il colmo se sono uguali questo è il primo no, sono diversi e questo è il secondo cioè davvero prima ho trovato un pacchetto senza reversa adesso un pacchetto con due codici con due codici ma vabbè comunque Ninjask Tro oggetto di involuzione Electrike Gible Timepole Deino Swablu Reverse e Gigalith Holo come dice qua ce n'era uno soltanto mi dispiace per voi allora Zuelus Scantank Palpitod Biduf Stanchi Marip Mincada Mincino Golet Reverse e Gorrain Raro codice Gotorita Leiron Buffalant Weasel Drifflum Electrike Wampol Roselia Vigoro Vigoro Reverse e Ghirados Raro Codice Silcun Zuelus Stankank Nospas Trabish Magmar Aron Deino Milotic Reverse e Ambi Pum Raro Ultimo Ultimo pacchetto di questa apertura Che di grandioso ha avuto solo due codici in un unico pacchetto Codice che non me ne faccio niente Allora Wolmer Gabite Sharpa salvagente Roselia Ondur Sfil Gotita Marip Stampisk Reverse e Dustox Raro Perfetto ragazzi anche questa apertura finisce qui io vi saluto e vi aspetto per le prossime ciao ciao Ciao